Tre parole per meditare in Quaresima, conversione, perdono e falsa ipocrisia che nasconde la menzogna di sentirsi nel giusto e nel bene. Papa Francesco indica questa strada nell'omelia della Messa a Casa Santa Marta, ricorda che il Signore esagera nel suo perdono generoso, lave peccati ma solo se si intraprende il cammino del bene. Francesco evidenzia poi un pericolo, un agguato, ordito da Satana che è il padre delle menzogne, predicare le cose giuste e poi comportarsi in modo contrario. Mille volte, afferma il Papa, Gesù preferiva i peccatori perché dicevano la verità su se stessi. Così bisogna stare lontani dalla strada dell'ipocrisia, dalla finta santità, dalla falsa conversione. Pertanto Francesco esorta ad un cammino nuovo, diverso, facendo attenzione ai bisogni di chi ci sta intorno. Ma come posso convertimi? Imparati a fare il bene. La conversione, la conversione e la sporchizia del cuore non si toglie come si toglie una macchia. Andiamo alla tintoria e usciamo puliti. Si toglie col fare, fare una strada diversa, un'altra strada, quella del male. Imparate a fare il bene, cioè la strada di fare il bene. Ricordiamo che in Israele i più poveri, i più bisognosi erano gli orfani e le vedove. Fate giustizia a loro. Andate dove sono le piaghe dell'umanità, dove c'è tanto dolore. E così facendo il bene, tu laverai il tuo cuore. E così facendo il bene. Grazie a tutti